Il tesoro sotterraneo della storia antica di Pesaro è pronto a riemergere a nuova luce con un innovativo progetto di valorizzazione. Quello che riguarda i mosaici del Duomo di Pesaro, quello su cui investe Fondazione Scavolini, che da fine mese metterà a terra un progetto che prevede l'ampliamento delle finestrature attualmente esistenti nella navata centrale, la sostituzione dei vetri opacizzati e la realizzazione di una nuova illuminazione. Progetto a carico della Fondazione, presentato oggi nell'Episcopio della Cattedrale, e concertato con arcidiocesi, comune e sovrintendenza. Operiamo per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale di questa città. Quando Pesaro è stata eletta capitale della cultura volevamo poter mostrare di nuovo, almeno in parte, quello che sono i mosaici del Duomo. Quindi abbiamo iniziato lo studio un anno fa, quindi con la sovrintendenza, naturalmente con la curia, per vedere se eravamo poi in grado di realizzare questi lavori. Siamo arrivati alla fine di questi studi e se tutto va come deve andare, perché sapete meglio di me che quando si iniziano questi lavori, soprattutto in luoghi come questi, si potrebbero incontrare delle piccole difficoltà, però aspettiamo l'ultimo matrimonio e poi la chiesa chiuderà per due o tre settimane, quindi noi ci auguriamo di iniziare i lavori alla fine di aprile, per aprire e poi riaprire a maggio, fine maggio. Nel 1999 il Duomo vide la costruzione di una pavimentazione sopraelevata in elementi d'acciaio realizzata dal Ministero della Cultura per valorizzare i due tappeti musivi presenti nel piano sotterraneo. In 25 anni però le finestrature sono state usurate dal calpestio perdendo trasparenza. Ora le nuove finestre faranno emergere la cronologia del panil sesto musivo sotterraneo. Quella di destra permetterà di avere una vista più ampia delle specchiature che costituiscono la pavimentazione a mosaico del VI secolo e renderà anche visibile la trincea che ha messo alla luce quella del IV-V secolo. Quella di sinistra permetterà invece di vedere il celebre pannello della nave troiana e della sovrapposta scacchiera del XII-XIII secolo. Sono 42 metri quadri, verranno aperti, cioè verranno ampliati già quelli esistenti. Ci sarà la possibilità quindi di vedere delle parti che adesso si intravedono. Verranno tolte delle panche, poi per il momento sono previsti lungo la navata due grossi ampliamenti. Verrà sostituita la parte chiusa con delle vetrate, ma quello che è importante è che verrà dotato di un'illuminazione in modo tale che i vetri, adesso a parte che sono più in colore scuro, saranno trasparenti ma ci dà la possibilità proprio di leggere e di vedere i mosaici. Il progetto sarà reversibile e non altererà lo stato del luogo. La cattedrale resterà chiusa durante il periodo dei lavori per poi riaprire riorganizzando le sedute in base al nuovo assetto. L'esecuzione dell'opera è stata affidata alla società pesarese Renco. Poi ci auguriamo tutti, come molti di noi hanno avuto la possibilità, anni fa, circa 25 anni fa, di godere di tutto il pavimento, magari perché no.